Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo all'aggiornamento che non si è scaricato o installato su Windows 10 oppure Windows 11 ovviamente in questo tutorial vi spiego come risolvere il problema se non dovesse proprio funzionare del tutto andremo a scaricare direttamente il download che rilascia sempre Windows Update quindi l'aggiornamento quindi andremo direttamente noi a scaricarlo sul sito della Microsoft quindi ovviamente andiamo un attimo su risoluzioni, impostazioni, soluzioni, problemi altri strumenti di risoluzione e problemi e andiamo a fare un'analisi riguardo al Windows Update e facciamo esegui farà così un rilevamento dei problemi così ci dirà qual è il problema e andremo così a risolvere quel problema che ci ha rilevato così Windows Update verifica la presenza di problemi in Windows Update, rilevato qualche errore, il problema è stato risolto? noi adesso andremo a cliccare su sì, chiudi strumento di risoluzioni dei problemi una volta chiuso andiamo un attimo su servizi servizi scendiamo fino a giù fino a trovare il Windows Update ovviamente se non dovesse funzionare il Windows Update sul sistema che non riesce a scaricare proprio niente vuol dire che qua è disabilitato ovviamente se è disabilitato oppure per chi lo tiene già abilitato questo qua fate su automatico interrompiamo così questa esecuzione stato del servizio arrestato e facciamo avvia una volta avviato così il servizio di Windows Update facciamo applica e chiudiamo qua il servizio se non dovesse funzionare con questo metodo andiamo su questo pc Windows fino a trovare il software distribution questo qua download e cancelliamo questi file una volta cancellati andiamo a vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento e se si è aggiustato qualcosa quindi così la verifica c'è un aggiornamento da fare e me lo sta anche installando ovviamente se non dovesse funzionare questo metodo come ho detto all'inizio andiamo a scaricare noi stessi gli aggiornamenti della Microsoft quindi in descrizione ti ho lasciato questo link che ti porterà sulla pagina con tutti proprio tutti gli aggiornamenti della Microsoft e anche quello di Nvidia e Intel quindi tu vai a cercare il tuo sistema operativo metti Windows 10 mi raccomando leggi anche con attenzione il prodotto dell'aggiornamento che devi installare quindi per esempio se su Windows Update c'è scritto aggiornamento non riuscito di questo qua quindi tu vai a scaricare questo aggiornamento e lo installi ovviamente devo scaricare l'aggiornamento di Windows 11 prodotti, finestre 11, Windows 11 clicco sopra questo è l'aggiornamento che mi ha fatto scaricare ovviamente se non applica così questo aggiornamento su Windows Update vuol dire che è già tutto aggiornato quindi come puoi vedere se io adesso vado a preparare così l'installazione mi dice impossibile applicare l'aggiornamento al computer perché a me è già tutto aggiornato come ti ho fatto vedere prima su Windows Update che ho fatto un aggiornamento e funziona del tutto quindi per altri problemi commenta sotto al video lascia like se questo video ti è stato utilissimo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao